Ti volevo chiedere, nel tuo prossimo progetto discografico, qual è il tuo sogno? Con chi vorresti veramente arrivare a duettare? Come ti è successo appunto con un'amica come Madame, ma andando proprio a sognare in grande? Questo vorrei sapere da te. In grande, tipo anche fuori dall'Italia, dici proprio... Sì, sì, assolutamente, devi sognare in grande. Beh, ci sono tanti artisti che mi piacciono particolarmente. Io ammiro tantissimo Angèle, che è un'artista francese, che fa musica pop e secondo me di un'eleganza veramente incredibile. Sarebbe bellissimo poter anche solo conoscerla e insomma sentire come fa lei a fare musica e condividere delle cose belle. Poi ovviamente, andando oltre l'oceano, ce ne sono tantissimi che secondo me spaccano. Jaden Smith è un'artista che stimo tantissimo e anche con lui sarebbe bello creare un qualcosa. È uno di quegli artisti che non è solo musica, ma ha proprio un concetto di essere che va bene oltre. Ed è quello che vorrei fare anch'io in qualche modo, perché per me appunto l'arte non è solo la musica. Ci sono tante altre cose, sarebbe figo insomma averle. Grazie Adrienne. Caro Lapiluso.